Figliolia illude inizialmente il bitonto, poi la nocerina firma il ribaltone e conquista un successo importantissimo in chiave salvezza. Finisce 3-1 al San Francesco per i Molossi, seconda sconfitta consecutiva anche questa indolore per i neroverdi già salvi nel campionato di serie di con abbondante anticipo. Valeriano Loseto per l'ultimo impegno esterno della stagione deve fare i conti con diversi infortunati. Eschiera dal primo minuto ben 5 juniores, 3-5-2 per i pugliesi, 3-4-3 per i campani. Buon approccio, dei neroverdi scesi in campo in maglia verde fluo, Stacos poco dopo il quarto d'ora non trova clamorossamente la pressa Figliolia ringrazia e porta in vantaggio i bitontini. Gol dell'ex e niente esultanza per lui, al settimo centro in questo campionato. Prova a replicare la nocerina da dimenticare la conclusione al volo di Giacomarro, non incide poco dopo sul secondo palo, caso naturale, insistono i rosso-neri in maglia bianca che pareggiano. A meno 10 dall'intervallo, caso naturale si procura il calcio di punizione, Garofalo fa centro con una meravigliosa traiettoria mancina. Gol bellissimo, 1-1 al San Francesco. Volano sulle ali dell'entusiasmo i campani che mettono la freccia prima del riposo e Maletic a trovare l'incornata vincente sui sviluppi di un corner 2-1. Nocerina all'intervallo. Il bitonto non ci sta tuttavia a recitare la parte della vittima annunciata, ma Fei apparecchia per Carullo che non trova lo specchio e la posizione invidiabile. Non la pareggiano gli ospiti, la chiudono i padroni di casa con un'azione in ripartenza. L'arbitro indica il dischetto per questo tocco proibito in area di Siletti, capitano di giornata dagli 11 metri. Maletic fa doppietta personale e 3-1 per la Nocerina. Resta un quarto di partita ancora da giocare, ma non ci sono più squilli sino al triplice fischio. Buon per la Nocerina che si giocherà domenica prossima alla salvezza diretta in serie di sul campo della Cavese, una delle due capolista del girone. Il bitonto invece chiuderà la propria stagione ospitando a Rossiello un casarano in corsa per l'ultimo piazzamento playoff.